Carissimi amici di Dinosauromania, sono ritornato da voi con questo nuovissimo video, con questa fantastica unboxing. Questa volta abbiamo tra le mani un... ragazzi, attenzione, non ditemi niente se la pronuncia non è delle migliori. Ho visto tantissimi video su YouTube, ognuno gli dà una pronuncia tutta sua. Io a questo punto lo chiamerò Coelurus. Non so se è giusta o sbagliata, ma per me è Coelurus. Però mi è arrivata una soffiata da un mio carissimo amico che mi suggerisce di pronunciarlo con Celurus. Quindi, cari amici, potrebbe essere Coelurus o Celurus, fate un po' voi, è comunque un dinosauro fantastico! E allora ragazzi, per prima cosa, mettete subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete i prossimi video. Grazie a tutti coloro che ci sopportano, che ci supportano e che ci sopportano magari, ecco, ci può stare pure. Ci trovate anche su Facebook e su Instagram, sempre come Dinosauromania. Ragazzi, guardatelo, è fantastico! Questo è un Dinosauro Jurassic World Dominion, ma nella versione Extreme Damage, praticamente danno estremo. E appena ho visto il packaging, la scatola, la colorazione, guardate, con questi colori fiammanti, rosso-arancione e poi il T-Rex qui in sovraimpressione, beh ragazzi, l'ho subito fatto mio! Sono appunto delle versioni di Dinosauri dove appunto tramite questo tastino si presenta il Mega Graffio, vedetelo ragazzi? E quindi questa cosa mi ha fatto subito impazzire, l'ho acquistato immediatamente. E vedetelo ragazzi, fantastico! Un Dinosauro con un piumaggio sulla testa. Vediamo se apre la bocca, vediamo anche lui se ci aiuta, sì! Guardate che aggressività, guardate che sguardo, guardate che cattiveria! Se vi si avvicina uno di questi, ragazzi, iniziate a correre! Lo abbiamo visto anche in Jurassic World Dominion, vediamo un po' il packaging sul retro, ci spiega appunto le informazioni riguardante il tastino che ha sulla parte appunto superiore del suo corpo e quindi eccolo qui ragazzi, in tutta la sua bellezza. Anche in questo caso, come ci dice la descrizione, c'è lo slot nella parte superiore del Dinosauro che ci darà la possibilità di vedere il codice di sblocco appunto per l'app. Quindi ragazzi, anche in questo caso, con i nuovi Dinosauri Jurassic World Dominion, Mattel ha preferito inserire questo codice di sblocco non più sotto le zampe posteriori dei Dinosauri, ma bensì in uno slot nascosto. In questo caso, eccolo qui, ve lo faccio vedere subito. Guardate ragazzi, questa è una cosa fighissima! Io adoro tanto questa novità di questi Dinosauri Jurassic World Dominion perché guardate ragazzi, eccolo qui, lo slot. È come se fosse qualcosa di segreto che il Dinosauri in questione ha nel suo corpo, non nella sua, nella statuina, che appunto scompare e ricompare quando appunto ne avete bisogno nel momento in cui desiderate appunto sbloccarlo sull'app di Jurassic World Facts. E quindi ragazzi, questa cosa è fantastica! Io, come sempre, questo Dinosauro lo terrò qui nella sua scatola, anche perché ragazzi, parliamoci chiaro, questa scatola è fantastica! Cioè, guardate le colorazioni, guardate che come fai a buttare via una scatola del genere, come fai a buttare via una grafica come questa! Cioè, guardate ragazzi, lo mettete così, lo appoggiate da qualche parte e fa già una figura incredibile! È fighissimo! Allora, adesso vi faccio una panoramica per farvi vedere il Dinosauro. Vediamo se la camera ci accontenta, lo mette a fuoco, eccolo qui, guardate anche le colorazioni, sono veramente, veramente strafighe! E in più vi faccio vedere un po' i movimenti. Le zampe anteriori si muovono in questo modo, apertura e chiusura, punto della bocca, movimento del collo così, quindi anche questo Dinosauro, ecco poi i movimenti delle zampe, anche questo Dinosauro ha un'ottima giocabilità. Anche la coda, vedete ragazzi, anche la coda può subire dei movimenti, quindi ci sono molti snodi in questo Dinosauro, quindi la cosa comunque lo rende molto, molto gradevole. Anche in questo caso ragazzi, Mattel ci indica che è un giocattolo per bambini di un'età superiore ai tre anni, quindi facciamo molta attenzione, ed eccolo qui. Vi faccio vedere ancora i dettagli, perché voi dovete capire cosa abbiamo tra le mani, ma soprattutto cosa andrete ad acquistare. Le dimensioni sono queste, quindi un giocattolo, o meglio un Dinosauro che sta, vedete, nel palmo della mano, quanto è carino, vedete ragazzi, spettacolare! E quindi eccolo qui, in tutta la sua bellezza. Vi faccio rivedere di nuovo il tastino. Vedete, è riposto qui, quindi comunque sia in una posizione molto, molto funzionale, ed ecco cosa succede quando si preme questo tasto. Vedete ragazzi? Fantastica come è stata ricreata, appunto questa zona graffiata, questa zona dove all'interno, vedete, si intravede della carne viva, dopo che c'è stato sicuramente un combattimento, un attacco estremo con un altro Dinosauro, ed ecco qui la funzione ragazzi. Fantastico, veramente, veramente bellissimo. Vi faccio vedere i particolari. Guardatelo. A me piace tantissimo. Vi ripeto, mi ha colpito molto la sua colorazione, mi ha colpito molto il fatto che ci fosse a punto questo tasto, che è la particolarità dei dinosauri della versione Extreme Damage, e quindi di conseguenza mi ha subito rapito, e non potevo fare a meno di acquistarlo. Allora ragazzi, eccoci qui con questo nuovissimo Dinosauro, questa nuovissima video unboxing. Io spero che vi sia piaciuta. Lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, e ciao da Dinosauromania! Dinosauromania!